Don Giuseppe Maniscalco, ci troviamo nella parrocchia di Santa Chiara a Canicattì, oggi un evento importantissimo per la città, perché l'Assemblea Diocesana per l'inizio dell'anno pastorale, si ricorda anche il Beato Giudice Rosario Livatino, saranno presenti tutti i sacerdoti della provincia, Monsignor Alessandro Damiano, l'Arcivescovo di Agrigento, E' merito anche Monsignor Antonio Stagliano, è merito di Noto, di Occesi Noto, sarà anche presente, lui farà una catechesi. E saranno previsti più di 1500 fedeli. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie per questa opportunità. Oggi è un giorno importantissimo perché il Vescovo ha indetto l'Assemblea Diocesana e ogni anno tutti i Vescovi, tra l'altro anche il Santo Padre, noi in questi giorni l'abbiamo anche assistita a questa bella esperienza, l'abbiamo vissuta. Quindi un'Assemblea Diocesana nella quale l'Arcivescovo convoca tutta la sua sposa, che è la Diocesi. Quindi presenti i presbiteri, i parroci, quindi, e poi le religiose, tutti i rappresentanti, rappresentanti anche a gruppi delle varie realtà ministeriali, insomma, della Diocesi. Pensiamo al Cammino del Rinnovamento, l'Unione del Catecumidi e tante altre realtà ecclesiali. E' un avvenimento perché ci prepariamo anche al Giubileo e quindi il Vescovo, all'inizio dell'anno pastorale, ci dà tutte le indicazioni, tra l'altro accogliendo l'invito del Santo Padre attraverso l'indizione del Giubileo. Quindi pellegrini di speranza. Poi tra l'altro, quindi proprio stabilendo la data il 29 di ottobre, ricorre alla memoria del Beato di Latino. E il Vescovo nella sua saggezza ha deciso, quindi confrontandosi con il suo presbiterio, che venisse celebrata a Canicattì. Tra i luoghi adatti a Canicattì, Santa Chiara è un luogo che si presta per l'ampiezza dell'aula liturgica, quindi può accogliere tantissimi fedeli e quindi c'è un'area di parcheggio. Insomma, ci sono tanti servizi che favoriscono questa possibilità di raduno. Ecco, ci affidiamo al Beato Livatino. Ecco, chiediamo a lui che questa chiesa grigentina cammini con grande gioia nella speranza che il Signore ci precede e che il Signore ci chiede tanto. E principalmente penso che attraverso il Beato ci chieda, lo chiede a me per primo, ma lo chiede a ciascuno di noi, di essere persone vere, persone giuste, persone che vivano nella legalità, persone che ogni giorno si interpellano e si chiedono sono io disposto a dare la vita come il Beato Rosario Angelo Livatino che ha imitato Gesù? E per l'inizio di questo anno pastorale, che messaggio vuole lanciare ai fedeli e soprattutto a chi sta attraversando un momento difficile dal punto di vista della salute, dal punto di vista economico, dal punto di vista anche familiare? Allora, intanto noi sappiamo che il Venedissanto è soltanto un giorno e poi siamo proiettati verso la Pasqua. Ecco, in questo Venedissanto, che sono le esperienze dolorose della nostra vita, delle nostre famiglie, quindi tante famiglie a Canicattì, viviamo a Canicattì, sono nella sofferenza, sono nella tribolazione o per mancanza anche di lavoro, per tante situazioni, di non fermarsi al dolore come una croce pesante che ti schiaccia, ma saper chiedere a Gesù, Signore, portala tu la mia croce, perché questo il Signore ci chiede. E in questo abbraccio con il Signore crocifisso noi sperimentiamo la risurrezione e penso che anche il nostro dolore, il dolore di tanti, diventa un momento di risurrezione. Dai, auguri, mettiamocela tutta, non ci scoraggiamo mai. C'è tanta preghiera, la preghiera della comunità, la preghiera di tante persone buone, la preghiera che ci fa andare oltre, non ci fa fermare al dolore, ma ci fa vedere la gioia della risurrezione.